per la prima serie cento rana ragazzi nuoteranno in corsia numero uno Robert Frank Leroux in due Alex Modenese in tre Camp Garrett in quattro Marco Bedon in quinta corsia Jared Liam Baxter in sei Tommaso Tognolo in sette Pietro Cirillo in otto Mattia D'Alfarra Paolo Casari 31-85 passaggio a metà gara atleta in corsia numero quattro porta colori dei nuotatori trentini classe 1999 va ad aggiudicarsi la serie numero due 1-08-43 sale al comando della classifica provvisoria